Sto recandomi al mercato Zaera perché è da un po' di giorni che arrivano notizie di probabile e possibile chiusura. Ma noi ce ne eravamo già occupati, devo dire, qualche tempo fa anche su sollecitazione di uno dei gruppi consigliari messinesi come il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le autorizzazioni relative al parcheggio sottostante. Insomma un'opera che in effetti è un'ottima cosa perché avrebbe dovuto dare la possibilità di rinnovare un mercato importantissimo, centrale e neuralgico per la città di Messina ma che sembra invece sia stato inaugurato un po' troppo velocemente. Mancarebbero delle autorizzazioni, ci sarebbe il rischio di chiusura ma io voglio sentire se sarà possibile coloro i quali sono gli attori principali, cioè coloro i quali ogni mattina aprono la sala cinesca e continuano quella che è una tradizione molto antica, quella del mercato Zera. Fra l'altro punto di incontro della città del centro, un mercato che avrebbe dovuto così risolvere tanti problemi strutturali e soprattutto essere rinnovato. Perché invece sembra che abbia dei grossi problemi. Adesso incontriamo, vogliamo incontrare coloro che gestiscono proprio gli box e quindi il mercato per Antonio Masi. Partiamo da una delle principali criticità del mercato Zera che secondo me è uno dei motivi più importanti di lamentela da parte di chi ci lavora. Adesso noi ci stiamo arrivando e questa è una zona molto molto trafficata. Fra l'altro corre intorno, gira tutto intorno al mercato una bretella che collega il Viale Europa dalla via Cesare Battisti ed è una bretella delimitata da Cordolo. La difficoltà sostanziale qui è il parcheggio. Come vedete già, ora vi faremo vedere che già ci sono delle macchine che praticamente sono posteggiate lì dove non dovrebbero. Perché quella è una bretella, quindi questo è tutto senso vietato. Saremo un po' stretti a parcheggiare in posti dove non dovremmo e cioè praticamente dove ci stiamo parcheggiando adesso e qui. Ok, io adesso stacco un attimo. Buongiorno, buongiorno, un giornalista solo. Con chi posso parlare per avere un'idea sulla situazione del mercato? Chi è che c'è qualcuno che vi rappresenta? Qualcuno che può parlare per voi? O mi dite voi come vi trovate? Si parla di chiusura? Non so. Eh? Però con me non è meglio di... Dico, voi vi trovate bene o no? Non so, perché io lo so vengono per altro. Il discorso è questo. Io chiedevo come vi trovate voi con gli stand. Se è in una situazione che si parla di chiusura. Allora faccio parlare direttamente con te qua. Mi chiedete? Eh, perfetto, è benissimo. Fate, fate, fate. Buongiorno, buongiorno, da lei mi mandano. Ma la motivazione qual è? Cos'è che strutturalmente non va? Perché magari il mercato non riparta ancora, giustamente. Non è ripartito. Ma le conseguenze sono perché ci sono tanti box anche chiusi. Giustamente. Quindi mancano delle attività. Ci sono le box chiusi che loro hanno, che ne so, hanno ridato le chiavi. Allora, sti box chiusi devono anche riaprire. Ma perché hanno ridato le chiavi? Perché non ci arrivavano, diciamo, alla gestione. Ecco, sì. Perché voi qua cosa pagate? Ancora non stiamo pagando, veramente. Ah, quindi non ci arrivavano perché non c'era attività? Non c'era, ecco. Ma perché secondo voi si ritornava? Cioè, questo era un mercato, mi ricordo, come era prima, che funzionava. Eh, funzionava e come funzionava. E ora perché non va? Secondo la vostra cosa. Anche perché noi siamo stati, due anni e mezzo, diciamo, spostati. Quindi la clientela dice di spostare. La clientela si è spostata. Ma ora che si sposta è un pochettino difficile a ritornare. A recuperarla. A recuperare tutte le persone. E questa è una cosa. Poi strutturalmente, però, parlavano di problemi qui. Problemi ce n'è, ma voglia molto ce n'è, nel mercato. C'è anche il problema del parcheggio. Dico, il parcheggio dice, ma... Ho visto, me ne sono accorto. Il parcheggio fa tanto il parcheggio. Certo. Tanto non fanno neanche queste già le ore che il parcheggio qua non c'è. E come mai non c'è qui? Sì, io me lo ricordo che non era messo bene il parcheggio sotto. Era ancora da finire. Sì, è da finire. Ma è già il fine del parcheggio. E solamente che ci sono andando i problemi perché è in basso. Il parcheggio sotto. È un pochino basso. E quindi? E quindi la devono sistemare questa cosa. Cioè, basso di tetto. Basso di tetto, sì. La devono sistemare. Quindi non era a norma. Non è a norma, come regola. Perché giustamente se deve entrare in un'autobalanza, non entra. E questo è... Tocca. Ma se questo caso non devono anche provvedere. Se ne vanno a provvedere questa cosa. Allora, devono provvedere in questa cosa. Noi domani abbiamo una riunione. Sì. Per vedere come si può fare questa cosa. Con chi vi incontrate? No, siamo frati noi. Ah, ok. C'è qualcuno, anche più, un altro che... Quindi, diciamo, mi capisce di più. Cioè, un ingegnere, un architetto, qualcuno che... Sì, penso di sì. Allora, speriamo che questa cosa si risoprano. Se non pensiamo a manco. Stava a risoprire. Il commissario di rettura, oggi leggevo, si parlava addirittura di chiusura. Prego, prego. Ma la chiusura perché? Perché lui, quello che abbiamo detto noi, giustamente dice che... Giustamente da chiudere. Perché giustamente, chi lo manca, chi lo manca, chi lo manca, chi lo manca. In totale lì, quindi, dicevamo... Ma noi eravamo, quante eravamo? 30, 32. E quindi la metà ha chiuso, insomma. Sì, anche forse di più. Quindi, insomma, voi vi riunirete domani e poi cosa proporrete? Insomma, con chi parlerete? Allora, questo non lo so veramente perché chi si è... Veramente il responsabile non sono io, diciamolo così. E' un ragazzo, diciamo che lui deve fare il presidente e tutto. Vabbè, però lei viene qua. E come si chiama? Come si chiama? Giordano. Giordano. Ma non c'è qui lui adesso? No, no, veramente no, ma è qua. Vabbè, adesso mi faccio un giro. Ma lui che sta in grado? Aveva questo qua, ha chiuso. Ah, l'ha chiuso? Questo è sempre... Questo è gli antichi sapori qui? Sì, sì. E che? Ma lui giustamente è quello che è il penno più... Dico, voi comprate il quantitativo di merce anche in funzione dello smercio che c'è, sto vedendo. No, è inutile prendere più roba. No, quando vuoi, non puoi comprare. Quindi sopravvivete in sostanza. È un bravo. Ma è stato forse inaugurato un po' troppa fretta questa cosa? Sì, questo è stato. E me lo dica perché è importante questa cosa. Però è una cosa, è troppo fretta. Se loro dicono che il mercato deve essere tutto fatto e poi magari... Quindi noi diciamo meglio, non fretta, prima di magari fare delle cose. Noi volevamo, giustamente, prima il parcheggio e poi il mercato. La prima cosa? La prima cosa è quella. Certo, far sistemare. E poi ora il parcheggio, niente. Cioè, come prima, prima non c'era. No, non c'era. Quindi siamo sempre tutte da capo. Anche come il mercato diciamo che c'è poca gente. Ma il parcheggio, io penso che sta accanto. Certo. Ogni volta, il parcheggio è fatto. Certo. Ma essendo che il parcheggio lì ancora non sblocca, non so perché ancora. Perciò è una cosa che non va. Beh, adesso non c'è l'amministrazione, quindi si è fermato anche per questo. C'è il commissario. Noi dobbiamo parlare, non è che potete aspettare il nuovo sindaco. No, potete aspettarmi l'auto. Chiudete prima, no? È logico, non è che c'è l'amministrazione. Stamanea non basta, scuola. Non basta. Signor Saccato, due minuti. Semplicemente perché ho saputo intanto che domani vi riunite. Il motivo della riunione è quale? Il motivo della riunione sono i parcheggi, intanto la priorità, che non sono state aperte. Perché so che c'è il tetto basso, mi diceva. Ma non penso che c'è il tetto basso, perché le macchine entrano, diciamo, all'altezza. E allora qual è la difficoltà di questo? Il problema è la gestione del parcheggio. Perché la gestione del parcheggio... Dove essere data a qualcuno? Dove essere data. O all'ATM o a noi magari qualche privato, questo era il problema. E perché non è stata data questa gestione? La gestione non è data perché dice che il comune non ha le persone addette, come è tanto dire l'ATM. Perché devono fare un costo dai pompieri per l'antincendio. Cioè, diciamo, forse il problema sarà questo qua. Possibile che non sia a norma il parcheggio? Che lo sappiamo. Allora, quello che vorrei vedere è il... Ecco, infatti si scende da qua. Vediamo come sono. Come vedete, qui sono tutti chiusi. Ci sono 15 box chiusi. E questo, ovviamente, non aiuta. Scendiamo giù. Non c'è l'accessione del parcheggio. E si è chiusi. Allora, qui, c'è l'accento. E comunque, e poi vi vedo. Spacheggi il fett? Il fett è un fett è basso. Un fett è un fett è basso. Sì, stiamo in icende, ma il fett è un fett... e altro motivo della riunione perché ho visto che ci sono 15 stand chiusi mi pare ecco il problema diciamo quello che ha visto lei sono i box non gestibili di cui fare l'aereoma e dalle altre persone che possono aprire perché se il mercato è incompleto le priorità sono questi parcheggio e apertura dei box ma perché hanno chiuso? c'è stato chi non ha aperto direttamente non avranno interesse o avranno interesse altrove qualcuno gli ha chiuso perché magari non hanno avuto la pazienza di acquistare una clientela perché spostandovi un po' l'avete perso c'è dopo che ci voleva tempo loro non potevano avere risultati in due o tre mesi vedere i risultati siamo quelli che siamo qua, quelli che ci possiamo lamentare, ci difendiamo tutto sommato questa struttura è una struttura fruibile, vi piace, va bene quali sono le criticità se ci sono e come il senso comune qual è? come viene valutata questa struttura così? come è stata fatta? diciamo la struttura che io vedo non è che ci sono problemi ci sono diciamo determinate cose che si devono sistemare come la preventazione che non è stata fatta bene perciò non è che sia un problema che si può risolvere le ringhiere attorno al mercato o alcuna disattata perché non è stata fatta diciamo sono dei lavorette che si devono rifare la struttura è nuova? la struttura è nuova, la priorità parliamo francamente sono l'apertura dei box e dei garage l'importante è questo l'amministrazione, l'amministrazione, il commissario oggi avete interlocuito vi sta dando una mano, si sta facendo qualcosa? che io sappia sì, che sta facendo diciamo un tavolo tecnico per risolvere questi problemi qua di sistemare diciamo queste piccole lavorette che sono state fatte male il discorso di Donia Mattia è sempre l'apertura del parcheggio perché ormai il messinese se non ha il parcheggio si ritrova a parcheggiare i carattrezzi che si portano le macchine, i verbali quindi non siete stati aiutati neanche da questo punto di vista? no, 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 perché amministrazione l'abbiamo chiamato più di una volta il problema è questo perché il mercato purtroppo è per persone che vengono a risparmiare se lei risparmia 5 euro si trova un verbale oppure si trova la rimozione della macchina diciamo non siamo stati aiutati in questo e voi avete chiesto più volte di parlare mi dicevo con l'amministrazione De Luca sì abbiamo parlato più in una volta, è venuto a fare sopra l'uomo, ha visto i box inclusi ora faccio l'arevoca, ora faccio questo, si sono questi risultati, non ha fatto niente perché c'è una legge che entro 90 giorni dell'assegnazione dei box vengono revocati, se non lo attivi vengono revocati vengono revocati e riassegnati e nessuno l'ha fatto ancora non hanno fatto niente, perciò deve pensare che noi i box sono stati consegnati a luglio ciò penso che tre mesi sono passati certo, abbondantemente il discorso qual è? fare anche i controlli, chi ha fatto tanto di dire il registratore di cassa chi ha fatto tanto di iscrizione, perché ci sono anche molti magari che vengono un paio di giorni si fanno due lavoretti senza registratore di cassa, senza niente e poi se ne vanno la cosa più importante è fare questi controlli se io a otto mesi che sono qua, basta prendere il libro dei corrispettivi e si vede che io giornalmente faccio la chiusura se io vedo uno aperto e gli richiedo i libri corrispettivi quanti giorni ha lavorato in otto mesi? perché quello che conta sono le fatture e le chiusure corrispettive certo, certo le chiusure di cassa giornalieri? loro devono fare solo questo controllo che ha fatto il contratto della luce e che ha fatto le chiusure fiscali giornalmente e l'iscrizione alle protecrispettive e della si vede chi ha gestito e chi non ha gestito quindi c'è da regolarizzare un po' tutti insomma e quelli che non sono in regola chi entra qua giustamente e ti vede introdire 10, 12, non lo so quanto sono perché non lo guardate più fa un po' di degrado una cosa è essere tutti aperti una cosa... chi non ha intenzione ad aprire non è di dire che è obbligato va al comune, consegna le chiavi lo mettono a bando e lo danno a un'altra persona loro che cosa stanno aspettando? perché la vecchia amministrazione ha ammesso che per 36 mesi non lo possono vendere molte persone che si sono prese il posto qua la sua intenzione qual era? di vendere e di lucrare qualcosa quindi stanno temporeggiando stanno temporeggiando tre anni tre anni di cui magari quest'anno non si paga la TOSAP perciò magari che pago due anni di TOSAP e mi costa 2.000, 2.400 euro me lo vendo 12, 13, 15 ma non mi possono tenere a me un box che mi danneggiano come a me qualche altro che stiamo lavorando ho capito siccome c'è una legge che dopo tre mesi si può revocare la cosa più importante è revocare i posti stop o se non li aprono quindi voi intanto domani vi riunite poi fate presente al commissario la prima cosa è questa l'apertura del box e il parteggio poi le altre cose piano piano si possono sistemare perché non è che sono cose diciamo che danneggiano il popolo certo non danneggia nessuno l'avvitturazione del pavimento gli avvolgimenti che si devono fare l'insegna mercato comunale che non è stata fatta diciamo o non è questo diciamo il problema non è questo il problema fondamentale lascio spazio alla signora che l'abbiamo fatto buon lavoro grazie 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 tutto è tutto il test tutto è in sostavietata e questo è il problema per cui è necessario che ci sia un parcheggio anche perché insomma che è una zona questa molto trafficata un mercato senza un parcheggio la possibilità di parcheggiare diventa un mercato difficile da poter praticare E allora, il concetto è questo, manca il parcheggio, fondamentalmente il problema è il parcheggio, l'altro problema sono le chiusure di almeno più della metà degli stand, dei chioschi che sono stati già assegnati e che pertanto rimangono come bloccati perché non utilizzati o comunque utilizzati a singhiozzo e ci hanno fatto capire, come ha detto il signor Secca, il vicepresidente del comitato, non in maniera regolare, almeno da un punto di vista di contribuzione fiscale, di regolarità fiscale. Pertanto questa è la situazione da cambiare, la chiusura più che altro rischia di avvenire, quindi non tanto perché il commissario possa stabilire la chiusura per motivi di regolarità strutturale, quanto più che altro per problemi legati al fatto che non si può ottenere un mercato a mezza forza. Un mercato in questo momento su 30 e più punti vendita ce ne sono aperti circa 12, quindi è qualcosa che va sicuramente rimodulato.